Musica Bella ragazzi, siamo su Gran Turismo 5 Scusate se oggi farò un video abbastanza veloce Ma vi chiedo scusa come domani ho l'esame Oggi è giovedì, domani ho l'esame Quindi non ho molto tempo da dedicare ai video E quindi ho deciso di fare questo video molto veloce Che è la top speed della Formula GT È comunque una richiesta E ho rimandato di un'altra settimana Quella che vi avevo detto che è molto lunga E quindi per ora sto facendo questa La top speed di quest'auto che ha 400 mila milioni di cavalli No, ne ha 942 E... tra l'altro è bruttissima da vederci È veramente una cosa orribile È zigrinata Vabbè lasciamo perdere Fa schifo Guardiamolo dalla visuale interna E... Niente, vabbè Questa è la top speed Vediamo quanto riesce a fare Siamo già a 404 405 Mi sono ovviamente messo sulla parte finale del rettilineo Perché come al solito quelle che vanno veloci Meritano di essere testate Fino in fondo Ah, niente Comunque non riesce a superare i 405 Orari La for... Formula 1 Boom Morto E... Niente, questo è il video di oggi di Gran Turismo Scusate ma veramente domani mattina ho un esame Quindi ci vediamo con i prossimi video Bella raga Ciao